Sono in onda? Sono in onda! Vediamo su YouTube come al solito mi dà l'autorizzazione per iniziare, vediamo, 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 forse sono un po' troppo bianchiccio, non lo so, non lo so, ora mi vedrò, ok, ricezione dei due condotti in corso, vediamo se ci siamo, e ci siamo! E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain, benvenuti in questo nuovo appuntamento con l'Apple Live del martedì ragazzi, come al solito prima di iniziare fate un saluto in chat, fatemi vedere quanti siete e ditemi se è tutto ok, se mi vedete bene, se mi sentite bene, nel frattempo io controllo, controllo da me, vediamo, 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 se riesco a vedermi da me, dov'è qua? Ok, dovrebbe essere online? Sì, mi vedo, vediamo, aspettate un attimo che mi vedo, ok, ok, l'illuminazione dovrebbe essere anche buona, buona, perfetto, qualità ottima come sempre, ok, grazie, grazie del feedback ragazzi, ripeto, salutate tutti in chat, fatemi vedere quanti siete e fra poco inizieremo. Oggi ci aspettano poche notizie, perché da martedì scorso ad oggi, anzi da mercoledì scorso, perché la scorsa settimana è stata di mercoledì la Apple Live, non ci sono state, cioè non sono uscite tante notizie, quindi parleremo di poca roba oggi, ma molto su cosa e risponderò a tutte le vostre domande come al solito, quindi se siete iscritti su YouTube o se siete nuovi e non sapete come funziona, qui in chat potrete scrivermi qualsiasi domanda e ovviamente io risponderò, ovviamente, pertinente al mondo Apple. Allora, 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 prima di cominciare ragazzi vi ricordo come al solito che queste sono le pagine social di AppleZain.net, ovvero Facebook, Twitter, Instagram e Telegram ragazzi, Telegram se avete un dispositivo Android, mentre se avete un iPhone o iPad vi invito a scaricare iAppZain, è attualmente l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane ed anche la più scaricata. Ragazzi, se mi scrivete si blocca senza che si blocca, vi blocco io a voi, grazie, non rompete nella live, nel senso, se c'è una cosa che succede, se è una cosa che succede davvero, ok, ma se è una cosa che non succede davvero, smettetela perché date solamente fastidio. Comunque, dicevo, iAppZain, disponibile sia per iPhone che per iPad, gratuitamente, scaricate ed abilitate, pardon, le notifiche perché ogni giorno arrivano le notifiche con tutti gli articoli e le novità più importanti della settimana. Allora, ultima cosa, qui sotto in descrizione c'è un link con scritto Dona anche tu e delle freccette, se volete effettuare una donazione per supportare il mio canale apparirà un vostro messaggio personalizzato qui, oppure potrete utilizzare la Super Chat. Tramite la chat c'è un tastino del dollaro, premete lì e fate una donazione in Super Chat. Grazie mille a chi lo farà? Allora, andiamo a leggere i vostri commenti ragazzi, perché sono un bel po', sto vedendo, allora, 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 inizia Davide Cazzaniga e mi scrive Ciao Mirko, che prezzo pensi avrà il nuovo iPhone? Allora, credo che avrà lo stesso prezzo degli iPhone di quest'anno, ovvero XS ed XS Max, diciamo che non dovrebbero esserci cambiamenti sotto questo punto di vista, a meno che non ci sia una sorpresa così randomica alla fine, ma non credo e spero di no, ovviamente. Sempre Davide Cazzaniga, a fine anno devo cambiare iPhone? Non so se prendere X o XR, perché ora ho un iPhone 6 e la batteria non dura molto. E l'ho stato batteria al 94, quale mi consigli? Beh, questo dipende da te, io ho già fatto un video su quale dei due preferisco, ovvero X o XR, vallo a vedere qui su questo canale, ma alla fine devi decidere sempre e solo tu. Allora, Yuma mi scrive Per piacere puoi spiegare... no, sì, puoi spiegare cosa ti ha portato a creare il logo di AppZain e cosa rappresenta quel logo per te? Allora, quel logo è stato fatto da un'azienda, ti parlo di tipo 10 anni fa quasi, forse anche 11 anni fa, Da un'azienda che fa grafica e abbiamo cercato di fare ispirare il logo all'azienda, diciamo, prendendo come punto di ispirazione il logo Apple e anche il tasto di accensione di un qualsiasi prodotto, il classico tasto di accensione on-off e quindi unendo le due cose è apparso il tasto di accensione con la linguettina, la fogliolina della melina Apple Oggi non posso seguirti, mi spiace, tranquillo Nicolas, poi puoi rivedere la Apple Live da dopo le 11.30, le 23.30 Allora, Francesco Palometti Reciomirco, non so se riesco a vederla la Apple Live perché mi devo vedere un film su Rai 2 che sarebbe squadra speciale Cobra Udici, Francesco, cosa mi dici? Luigi Gregna, ma mi conviene prendere un Apple Watch serie 3, 220 euro ricondizionato, mi saluti, sei un grande Ciao Luigi, sono quello dell'iPhone 8 di oggi, ok, mi ricordo Allora, io posso dirti che no e ti spiego perché Perché fra qualche mese, ovvero a settembre, cioè fra un mese qualcosa, uscirà il nuovo Apple Watch serie 5 Quindi la serie 4 verrà scontata, molto probabilmente a quel prezzo o qualcosina in più potresti trovare la serie 4 Quindi inutile prendere adesso la serie 3 quando fra un mese praticamente la serie 4 verrà super 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 scontata Allora, Fabio Casolaro mi scrive Come richiedo la Apple Card? Caro Fabio, non puoi richiederla, devi essere residente negli Stati Uniti e avere un lavoro negli Stati Uniti Purtroppo in Italia non è disponibile Allora, Lorenzo mi scrive Quanto manca per Apple Watch serie 5? L'ho appena detto E cosa cambierà? Questo purtroppo non si sa Di sicuro si parlerà di prestazione, di batteria migliorata Ma come novità e funzionalità inserite al suo interno ancora non sappiamo praticamente nulla Salvo i gamer Mirko, io ancora guardo i video di Mirko Nair e muoio dalle risate nel video dove hai detto che passi il Natale Dove appunto i tuoi zitti regalavano cose inutili tipo mutande Stiamo parlando di tempi che furono Grande salvo Ok, qua ci sono tutti i saluti Video interessante più che mai quello di oggi Mi scrive Mattia Villadoro Mattia, ci sta Ogni tanto qualche video molto più di massa Nel senso che interessa più persone Faccio molto spesso video anche di news o guide che comunque attirano una nicchia di persone Mentre questa tipologia di video ovviamente parlano a tutte le persone che lo vedono Quindi meglio così, meglio così Allora, Tommaso Ocello Mi consigli di comprare un iPhone 8 ricondizionato perché non dovresti Sempre Mattia Villadoro mi scrive Nell'iPhone XS Max a sostituire più vetri temperati c'è il rischio di rovinare il display reale Inoltre, cos'è nello specifico l'olio a repellenza? Allora, l'olio a repellenza è praticamente la capacità di un display, in questo caso di iPhone Di non far aderire o comunque far creare olio sul display L'olio che praticamente è il sebo della pelle che creiamo noi stessi toccandolo giornalmente Quindi se non fosse oleofobico praticamente sarebbe pieno di impronte digitate Che già lo è, già lo è perché il mio già lo è Però Poi mi avevi chiesto, mi avevi chiesto No, sostituire vetri temperati non rovina il vetro sottostante Anche perché sono... C'è uno strato superiore, quindi non intacca assolutamente nulla Mirko, il tuo Apple Watch ha la funzione cellular? No, 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 lavorando a casa non mi serve la funzione cellular su Apple Watch Michele Merola, Mirko, e si alza la chat Maledetto YouTube Maledetto, devi morire Signor YouTube Scusa, non mi demonetizzare il video Michele Merola, Mirko, secondo te in che colorazioni sarà rilasciato iPhone 11 e 11 Max? Grazie Figurati Michele, ti dico che non dovrebbero esserci variazioni di colori Quindi i soliti silver, gold e space grey Come attualmente Apple ci ha abituati anche con iPhone XS ed iPhone XS Max Riccardo Mereo Bella Mirko, ti seguo dalla Sardegna Ciao Riccardo Allora Vincenzo Bosso Mirko, quando non uso il telefono lo metto in carica Sbaglio? Sì, sbagli sì Perché deve comunque raggiungere una certa percentuale di scarica il telefono Non puoi sempre metterlo sotto carica e sotto sforzo Rovini la batteria così Ehm Allora Daniela Benetti Sai già quanto può avere di durata la batteria del nuovo iPhone che sostituisce l'iPhone XR? Cara Daniela Sì, sono uscite delle news, dei rumors, delle anticipazioni Parlano di un incremento, un piccolo incremento anche su iPhone XR 2 in questo caso E praticamente dovrebbe passare a circa 3100 mAh Allora, ovviamente questi sono solamente rumors Lo scopriremo a settembre pienamente Qualora dovesse essere in questa maniera Allora, Mattia Villadoro Ancora Inoltre Posso pulire con un panno degli occhiali umido di sola acqua l'iPhone compreso il retro? O c'è il rischio di rovinare il vetro persino posteriore? XS Max Mattia, io il mio XS Max lo metto sotto l'acqua del lavandino Lo insapono col sapone E poi lo sciacquo È impermeabile Perché non sfruttare queste funzionalità? Allora Vincenzo Boss Mirko, la mia batteria è usurata ma non dura poco Beh, la batteria, cioè l'usura della batteria non influisce solo sulla durata batteria Ma anche sulle prestazioni di iPhone Più la batteria è usurata, più iPhone viene depotenziato e va lento E avere uno smartphone lento, onestamente, non mi andrebbe bene Enzo Colombo Ciao Mirko, vorrei comprare iPhone 11 Max che mi consigli? Io ho un iPhone 7 Plus Enzo, non posso consigliarti iPhone 11 Max perché ancora non è uscito Quindi non sappiamo effettivamente le sue novità Ciao Mirko, sei un grande Grazie Venus Devo fidarmi quando al telefono l'operatore Apple a seguito di una diagnostica telefonica sul mio iPhone XS Max Mi ha rassicurato sul fatto No, aspetta, che cacchio sto leggendo Mi ha rassicurato sul dispositivo dicendo che non ci fosse nulla che non andasse Certo, perché la loro connessione wireless che fanno la loro diagnostica wireless È ovviamente la stessa che fanno in Apple Store Quindi non cambia assolutamente nulla Mattia Marconi Perché quando pubblicizzi iAppZain menzioni solo la disponibilità per iPhone e iPad e non quella per iPod Touch? Perché ormai iPod Touch, cioè, non si usa più Ce l'hanno pochissime persone in Italia Forse a stento ce l'hanno un centinaio Quindi non avrebbe senso pubblicizzarla anche lì Ma ovviamente è disponibile Tu usi la luminosità automatica? Se no consigli di tenerla a metà in condizioni d'ombre? O se sì in casa, quindi in ambiente abbastanza illuminato? Beh, questo dipende da voi Non è una funzione che, cioè, nel senso, se l'attivo io dovete attivarla anche voi Bisogna vedere come vi trovate Cioè, c'è a chi non piace far abbassare ed alzare in automatico la luminosità C'è a chi piace farlo manualmente Onestamente, alla domanda non voglio rispondere Perché influenzerei il tuo modo di pensare Quindi ognuno deve fare quello, in questo caso, quello che gli piace fare Comunque, allora ragazzi Allora ragazzi, andiamo a vedere le novità di questa settimana E iniziamo con Apple ha rilasciato la quarta beta pubblica del nuovo Mac Quest Catalina E ha rilasciato anche il nuovo Mac Quest Mojave 10.14.6 Update 2 L'Update 2 cosa vuol dire? Che è lo stesso aggiornamento 10.14.6 per i nostri Mac Ma con una piccola correzione In questo caso, cita L'aggiornamento supplementare di Mac Quest Mojave 10.14.6 risolve un problema che impediva il corretto riavvio di alcuni Mac dallo stato di stop Questa cosa è veramente molto importante Perché io questa problematica l'ho riscontrata sul mio MacBook Air Con Mojave, infatti poi sono ritornato a Catalina perché testo le beta sull'Air, sull'iMac o Mojave Praticamente mi dava questo problema Infatti ho rimesso a Catalina che non aveva questo problema C'è strano, la beta non aveva questo problema Mentre una versione ufficiale aveva questo problema In pratica mettevo, chiudevo praticamente il display E entrava in stop il Mac E non si riavviava Dovevo tipo tener premuto il tastino per accendere e spegnere E poi il Mac si riavviava Una cosa veramente incresciosa Soprattutto per chi usa i prodotti Apple come me per lavoro Cioè lo sblocchi, lo apri e poi non si abilita Proprio non funzionava Quindi Apple ha posto rimedio Meno male qualche giorno dopo Ci stava, ci stava E poi, e poi, e poi Ho fatto un video molto interessante ragazzi Spero che lo abbiate visto in molti Perché si parla del nuovo menu di condivisione di iOS 13 Molti mi hanno chiesto Mirko ma cambia solo esteticamente E io ho voluto fare un video dove vi spiegavo Lo trovate ovviamente su questo canale Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi e lasciate un like Nel frattempo ve lo dico a questa live Arriviamo a 100 like prima della fine della live E dicevo Se non avete ancora visto il nuovo menu di condivisione di iOS 13 Uscito tra l'altro nella beta 5 Perché il nuovo menu è disponibile dalla beta 1 Ma nella beta 3, 4 e 5 Apple ha modificato ancora di più il menu Rendendolo praticamente completamente opposto dalla beta 1 Veramente, veramente bello Andatelo a vedere Ehm Vediamo, vediamo, vediamo che facciamo Ok, parliamo Parliamo del titolo di oggi Che è anche questa notizia ragazzi iPhone 2021 con Face ID e Touch ID sotto al display Ora Parliamo di questa notizia Perché questa notizia è fondamentale ragazzi Fondamentale Ora A prescindere dall'immagine che c'è qui Che praticamente è stata fatta da un leakers Il famoso leakers Benjamin Jaskin Che io nomino sempre negli articoli, nei video, eccetera, eccetera Praticamente Lui ipotizza che il nuovo iPhone del 2021 Non l'iPhone di quest'anno Non quelli dell'anno prossimo Ma del 2021 Quindi fra due anni praticamente Sia così ragazzi Così Ovvero tutto schermo Il retro incassato nuovamente Con un nuovo design, eccetera, eccetera Cioè Immagina un qualcosa di similare Sicuramente comunque a tutto schermo Bene Oltre questo Benjamin Jaskin insieme ad altre fonti Hanno confermato che Apple sta lavorando Per implementare una nuova tecnologia Anzi Nuova modificata da una vecchia tecnologia Ovvero il Touch ID Sotto al display del futuro iPhone 2021 Che in proporzione Se quest'anno si chiama 11 L'anno prossimo si chiamerà 11S Dovrebbe chiamarsi iPhone 12 Rigor di logica Se Apple continuerà ad andare avanti con i numeri E praticamente questa Questa nuova funzionalità di Touch ID Sotto al display Però si differenzierà Tra quelle che già esistono Nel mondo Android In pratica nel mondo Android C'è un punto ben preciso del display Dove poggiare il dito E in base ovviamente al punto in cui poggiamo il dito Si abilita o meno il riconoscimento delle impronte digitali Mentre Apple sta lavorando A una tecnologia veramente fuori dal normale Ovvero tutto il display Riuscirà a far funzionare Questo sensore Touch ID sotto al display Apple inoltre Dice la fonte Riuscirà ad unire il Touch ID Con il Face ID Per creare una sorta di sblocco combinato Ultra Mega Impossibile da bypassare Cioè avete presente che già il Touch ID E il Face ID Sono i metodi più sicuri al mondo Per sbloccare o bloccare uno smartphone O comunque per effettuare pagamenti Eccetera eccetera Bene Apple unirà tutte e due le tecnologie Per rendere questa cosa ancora più sicuro Cioè cosa c'è più sicuro della sicurezza ragazzi Cosa c'è? Credo che non ci sia niente Ma comunque torno ai vostri commenti Tanto ora si alza la chat e io mi incavolo come una bestia Allora Pietro Penone Ciao Ho comprato in supermercato In zona Ad un prezzo sottocosto iPhone XR 64GB 599€ È fantastico Ottimo prezzo E auguri per l'acquisto Allora Benjamin Mi scrive Ciao Mirko Mi consigli di prendere le AirPods di serie 2 O aspettare la prossima Che forse uscirà a settembre Adesso ho le AirPods di prima serie Solo che dopo due anni ormai sono esauste Allora Benjamin Ti posso dare questo consiglio Ormai manca un mese Qualora dovessero uscire queste nuove AirPods Airpods Perdono Usciranno proprio a settembre Durante l'evento di iPhone Quindi se lì non dovesse uscire niente Prendi la seconda generazione Se invece dovesse uscire qualcosa Decidi poi tu di conseguenza Allora Riccardo Amereo Mirko ascolta Ho un iPhone XS bianco Lo potrei cambiare in assistenza con un iPhone XS nero Il nero è bellissimo Io lo amo Mi consigli di aspettare L'iPhone di settembre Belle Ciao Mirko Ciao Riccardo Allora in assistenza non si può cambiare la colorazione Né se il dispositivo ha un problema E te lo sostituiscono a pagamento Non si può fare in nessun modo Cioè la colorazione non si può cambiare Per il fatto di aspettare Beh dipende da te Nel senso Se vuoi cambiare iPhone Puoi cambiarlo Ma hai già il top Quindi Perché cambiare per adesso E si alza la chat E si alza la chat Dove siamo arrivati? Ok Vincenzo Bosso Mirko Ci sono persone che dicono Che bisogna far scaricare il telefono Sempre a zero E queste persone devono morire Malissimo Perché non sanno cosa dicono E fanno sì che le batterie delle persone si danneggino Io ho visto una marea di video di gente che dice queste cavolate abnormi ragazzi E poi Ah ma io ho seguito il video di quello E cavolo Perché l'hai seguito? Ma comunque Darkseid Abiliterai mai l'iMessage business chat per app Apple Zain? No Anche perché già abbiamo su iApp Zain Che è su App Store Una chat integrata per parlare appunto in assistenza Quindi non avrebbe senso fare questa cosa su iMessage Salvo Mirko ma perché non fai un po' di video sull'assistenza hardware? In che senso? Intendi per il fattore garanzia O intendi per Non lo so Consigli sulle riparazioni Non ho capito bene cosa intendi Allora Tech Channel Ieri ho sostituito la batteria del mio secondo iPhone SE Che avevo da un anno Il video di oggi mi è stato utilissimo per salvaguardare la vita della batteria del mio nuovo iPhone XR Mi fa molto piacere E un tacco me l'hanno detto oggi Quindi ragazzi Meno male che ho fatto sto video oggi non era in programma Ho detto vabbè facciamolo oggi Dovevo farlo fra qualche settimana Ho detto facciamolo oggi Così da Da informare tutti Ed infatti ha funzionato Non sapete quanti ringraziamenti ho ricevuto in quel video Cioè in questo video di oggi Allora Francesco 7 Non ho capito come Ok vabbè Ciao Mirko Io fra poco prendo l'iPhone 8 Secondo te vale la pena nel 2019 Purtroppo sono ancora un po' piccolino Per permettermi un iPhone modernissimo E allora va benissimo iPhone 8 Stai tranquillo che è ottimo Mirko io faccio il compleanno a settembre Penso Prendo l'Apple Watch Serie 4 Grazie del consiglio Figurati Luigi Quindi quale sarebbe Quindi quale sarebbe la percentuale minima di scarica Vincenzo l'ho detto nel video di oggi Non mi fate ripetere sempre le stesse cose Faccio un video per parlare con tutti Non me lo fate ripetere anche nell'Apple Live Mirko tu hai l'Apple Pencil Mi scrive Luca Figus No purtroppo non ce l'ho Dico purtroppo perché non mi serve Nel senso per quello che faccio io Non la trovo utile E non mi serve Quindi inutile spendere 140 euro Praticamente per una cosa che non utilizzo Onestamente mi sembra un po' una cavolata Però c'è non la penna Ma fare queste cose se non mi serve Allora Daniela Benedetti C'è la possibilità di avere la suoneria sull'iPhone Per i messaggi Anche se indosso Apple Watch Perché se indosso Apple Watch Cellular Serie 4 Non suonano più i messaggi dal telefono Beh è questo Apple Watch Apple Watch sostituisce le notifiche Che ti arrivano su iPhone Cioè non puoi Levare la funzione principale di Apple Watch Daniela Non usare Apple Watch Allora Enzo Russo Quando uscirà iOS 12.4.1 Chi l'ha detto che esce iOS 12.4.1 Se non dovessero esserci problemi Non uscirà mai Quindi attualmente non è in programma Poi Apple deciderà per sé Allora Per richiedere Apple Card Bisogna avere un reddito richiesto Visto che è una carta di credito Sì Infatti devi passare un'approvazione Ma tra l'altro ripeto Devi essere residente negli Stati Uniti E lavorare negli Stati Uniti Quindi non possiamo attualmente utilizzarla Enzo Russo Gran video di quello di oggi Continua così Grazie mille Enzo Allora Conviene fare Polker Beh dipende Dipende Se sei una persona maldestra Nel senso che fai cadere a terra Le cose che hai in mano Magari sì ovviamente Io non ne ho mai avuto bisogno Ma so anche che le persone Sono tutte diverse Fra loro Quindi è normale Che ad alcuni Possa capitare più spesso Poi se siete sfigati A prescindere Nel senso Se non avete fortuna Con queste cose Vi cade sempre Cioè fate Allora Mattia Villadora Al momento mi trova Al 93% di usura totale Al 90% farò come hai detto te E cambio nell'immediato Se non avessi guardato quel video Oggi probabilmente L'avrei cambiato all'80% Beh ragazzi Più tempo fate passare Cioè il range ottimale Tra l'85 e il 90% Se voi fate passare più tempo Il vostro iPhone Comincerà a rallentarsi In maniera assurda Queste foto dell'iPhone 2021 Mi fanno sbrodolare Se mettessero la possibilità Di dover usare Sia Touch ID Che Face ID Per sbloccare iPhone Sarebbe ancora più sicuro Esatto Leggo gli ultimi commenti Ragazzi poi Continuate a commentare Io passo poi Alle novità di questa settimana Vincenzo Augello O iPhone XR La durata della batteria È migliorata molto In confronto ad iPhone 7 Mi dispiace solo Non poter vedere all'istante La percentuale della batteria Vabbè Vincenzo Purtroppo questa è una cosa che Diciamo tutti Questa percentuale della batteria Non la vedremo mai più No Che è successo? Che è successo? Mi vedo? Non mi vedo? Mi vedo? Non mi vedo? No 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 Perché? Perché? Perché succedono queste cose? Perché questa webcam nuova Fa i capricci? Non so Mi vedete? Mi vedete? Io non mi vedo Vedo tutto nero Ma che? Vedo tutto nero Mi sentite? Di sentire mi sentite Non so se mi vedete Aspettate che Guardo anche io Guardo anche io dalla live Ma che diavolo No non mi vedete Ma che diavolo Aspettate Faccio Ah ok Si è surriscaldata In una maniera Incredibile Aspettate un attimo Aspettate un attimo Che attacco anche il condizionatore Si è surriscaldata In maniera incredibile Ma che Ma che diavolo Che diavolo fai Aspettate 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 che Ricollego Vediamo Sei più nero di me Ciao Tommy Aspettate Vediamo Ce la facciamo? Ce la fac... Non si riprende Ma che c... Non si riprende Aspettate un attimo Ma che... Si è fusa la webcam Si bellissimo Dai dai Si ci sta Sempre Sempre soldi Dai No Dov'è qua? Staccata anche la luce No Dov'è? Sempre soldi Vai Si dai E' così che va E' così che va Dobbiamo uscire soldi Dai Vediamo se si riprende Se non si riprende Prendo l'altra ragazzi Non ci credo Non ci credo Non ci credo Aspettate Aspettate Ma maledizione 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 Aspettate Che la collego Che rottura Di scatole Che rottura Di scatole Queste cose Devono succedere Mentre sono in live Ora se si è rotta Io uccido qualcuno Uccido qualcuno Ok Aspettate Vediamo se riesco A collegare questa Ok Dovrei collegare Ok la qualità Non è la stessa Assolutamente Aspettate Vediamo se riesco A riconfigurarla Camera settings Perché? Perché fa ste cose? Perché? Allora Widescreen E fino a qua ci siamo Aspettate che La raddrizzo Ok Bilanciamento del bianco Potrei mettermi Un po' più così Vabbè Dai Ok ci accontentiamo ragazzi Un po' più Non lo so Ok Adesso mi vedete Ci sono Maledetta Reflex C'è reflex Maledetta webcam No Si è rotta 200 euro di webcam Voglio uccidere il mondo Non si collega più Va bene Va bene Va bene Ragazzi Donate Vi prego Per fare l'Apple Live Uccido la mia strumentazione Donate Per favore La qualità è cambiata totalmente Lo so ragazzi Lo so Purtroppo Purtroppo è così È diversa la web Cioè ho preso quella nuova Non ci posso credere Maledetta Vediamo aspetta Sono curioso Giuro che sono curioso No non c'è più Proprio non la legge Non la legge Non la legge Ok Allora Stavamo dicendo Aspettate che Bevo un po' Mi sono agitato Sì sì È in garanzia L'ho presa Da circa L'ho presa da circa Tre settimane Quindi ancora è in garanzia C'è molto tempo Il problema è che La devo spedire Devono rimandarmi La devono fare Cioè Mi romperò un po' le scatole Anche perché La qualità già era aumentata Invece adesso si vede un po' cupo Ma va bene così Comunque aspettate un attimo Allora Aspettate aspettate Dove siamo Arrivati Ok Il primo bannato Della giornata Il modo schifoso Di parlare Non ce l'ho io Ma ce l'hai tu Grazie Del complimento Allora Dove siamo arrivati Dove siamo arrivati Allora SPQR Quindi iPhone 11 e 11S Rimangono così Secondo me Apple doveva Anticiparla questa cosa 2021 E 21 sarà tardi Per una tecnologia del genere Boh Chi lo sa SPQR Allora Una volta pulita la RAM Su iPhone XS Max Con la stessa procedura Che indicavi te Come faccio a controllare Che sia stata pulita O svuotata correttamente Parlo sempre di XS Max Non c'è un modo per vederlo Devi fidarti di quello Che ti diciamo ovviamente Michele Merola Mirko Secondo il tuo parere Finalmente Apple nei nuovi iPhone 11 Ed 11 Max Toglierà il taglio Da 64 GB Partendo quindi Da una base minima Di 128 GB Michele Io lo spero davvero Ma credo sia una cosa impossibile Anche perché già A questo punto dell'anno Una cosa del genere Saltava fuori Ma nessuno ne parla Quindi credo proprio Che se dovesse accadere Mi sa che accadrà l'anno prossimo E non quest'anno Luca Galliera Ciao Mirko Riguardo alla salvaguardia Della batteria Mi è capitato Di fare hotspot Via cavo E ovviamente Il telefono Si è caricato In quel frangente Ma senza arrivare Al 100% Succede qualcosa Assolutamente no Ripeto Se tu non lo metti In carica Al di sotto del 20% In automatico Caricandosi E funzionando Normalmente Dando anche l'hotspot Tranquillamente Non crea nessun problema Un Apple Fan Ah Una tisana rilassante Ed Apple Live Che bello Allora Ciao Mirko Come si attiva La conferma di consegna Di un SMS Mi sembra che devi contattare Il tuo operator Non è una cosa Che si può fare Su iPhone Ciao Mirko Buonasera Ciao Tommy Ho visto Il commento dopo E non questo di prima Alessandro Di Bari Il microfono del mio iPhone 7 Ieri ha smesso di funzionare Devo chiamare l'assistenza Ma quanto pensi Mi faranno pagare Beh dipende Dalla problematica Se è una cosa Che può Essere riparata Non lo so Qualche Qualche centinaia di euro Se è una cosa Che non può essere riparata Sostituiscono tutto lo smartphone E se non erro Costa intorno ai 200-300 euro La sostituzione totale Non vorrei sbagliare Ciao Già che ci siamo Dritte sulla batteria Quando caricare Dal momento dell'acquisto Allora Dal momento dell'acquisto Non c'è una procedura Tipo vecchia Tipo storica Lascia tutta la notte L'iPhone a caricare Il telefono a caricare Non funziona più così L'iPhone è già precaricato Quindi bisogna Far scaricare completamente Quindi fare una prima carica Azzerando completamente la batteria Poi ricaricando fino al 100% E poi rifare la procedura Che ho descritto oggi Nel video Salvo i gamer Intendo video Sull'assistenza Per esempio Sostituire la batteria Di iPhone Nel senso che lo devo fare io Nel senso che devo far vedere Come sostituire la batteria Non lo potrei mai fare Io non Non consiglio mai La manomissione Ma ovviamente Di andare In Apple Store Quindi non Non credo Di essere in grado Di fare questa cosa Né voglio farla Perché sarebbe Disinformazione Dovete Sempre andare Dove si è sicuri Che La riparazione Avvenga in maniera Ottimale Anche perché Un esempio pratico È la batteria Cioè sostituendo la batteria Si può perforare la batteria E far uscire Gas tossici E sentirsi male Cioè potrei sentirmi male Io O anche voi Che lo ripetete a casa E soprattutto Rompete il vostro iPhone Lo distruggete totalmente Totalmente Quindi Ciao Mirko Ti vedo solo ad ogni pubblicità Va bene Francesco Mi consigli di acquistare Un iPhone 7 Per un ragazzo di 13 anni Sì Cosimo Tranquillo Va benissimo iPhone 7 Vincenza Cazzolino Ciao Mirko Grazie per il video di oggi Della batteria Figura di Vincenza Simone Boscolo Ciao Mirko Vale la pena acquistare un iPhone 7 Perché è la prima volta Che provo un iPhone Sì ho già fatto un video Nelle scorse settimane iPhone 7 con iOS 13 Praticamente incrementa Ancora di più La sua velocità E le sue prestazioni Ragazzi iPhone 7 Attualmente È il best buy Di quest'anno Con iOS 13 Quindi compratelo Ancora esistono persone Che nel 2019 Fanno il jailbreak Sono persone che vogliono Sfruttare iOS al massimo Così al massimo Che possono anche Tramite il jailbreak Danneggiare CPU e GPU Quindi Non fatelo ragazzi Non fatelo Allora Salvaturi Ciao Secondo te conviene passare Da iPhone XS Max A quello nuovo Ovviamente Plus Salva Ancora non sono usciti I nuovi iPhone Come faccio a consigliarti Una cosa che non esiste ancora Comunque ti seguo dalla Sicilia Grazie mille Luigi Carmine Di Donato Ciao 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 È entrato ora Ma si conoscono i prezzi Di nuovi iPhone 11 Non si conoscono Caro Carmine Ma dovrebbero rimanere Invariati rispetto a quelli Di quest'anno Salvatore Ciao Mirko Quindi quest'anno Niente day one Dato che iPhone 11 È già uscito Esatto Salvatore Una battuta su uno youtuber Che ha fatto un video L'altro giorno Molto clickbait Vincenzo Boss Ma sei maniacale Con il tuo iPhone In verità no Ma questo perché ragazzi Questi iPhone Non ce li danno aziendale Quindi non Non li compriamo Quindi fondamentalmente Un po' Ce ne sbattiamo Infatti lo uso senza cover Ma secondo me È meglio così Se tu stai Apprensivo su una cosa Ti si rompe Ti si rompe Cioè È palese Ti si rompe Comunque Torniamo alle novità Di questa settimana Stavamo parlando Di iPhone 2021 Ma Adesso andiamo a parlare Delle altre Novità di questa settimana Anche perché Ci sono solo quelle di oggi Sono rimaste solo quelle di oggi Quelle di oggi Perché non ci sono Praticamente notizie Non ci sono state Novità Una novità davvero importante È di Apple Card Perché Apple ha abilitato La pagina ufficiale Sul sito apple.com Per Apple Card Si può richiedere L'iscrizione Ma solamente Per persone Diciamo Selezionate da Apple Attualmente Tra l'altro Oggi Apple ha pubblicato Anche diversi video Sul proprio canale YouTube Dove ha appunto Mostrato Il funzionamento Di Apple Card Come viene abilitata Su iPhone Come viene sfruttata Come si effettua un pagamento Eccetera 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 Soprattutto anche come abilitare La carta fisica Che è spettacolare Ragazzi Cioè vi giuro Ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere È fighissimo Scusate che lo metto 1080 Cioè voi aprite Il packaging Ovvero il Il pacco La scatola La confezione In automatico Su iPhone Si collega la carta Cioè avvicinate Si collega la carta Ma cosa Che figo Tipo Airpods Non so se avete capito Tipo Airpods Bellissimo Comunque E quindi Apple Card Praticamente sta per arrivare Vi ricordo che Non arriverà in Italia Quindi Non sarà disponibile Attualmente nel territorio Né italiano Né europeo È una cosa scontata Cioè non Molti mi chiedono Perché in Italia no Perché in Europa no Ragazzi è scontato Apple è un'azienda Statunitense Ha fatto un accordo Con la Goldman Banks Che è statunitense Anch'essa Che è una banca Che appoggia appunto Apple Card E basta C'è una banca Statunitense Non può lavorare In questo momento In maniera internazionale Con una carta appena lanciata Magari in futuro Sì ma in questo momento No ragazzi Date tempo al tempo Magari fra 3-4 anni La vedremo anche In Italia E poi Oggi si è parlato Del nuovo MacBook Pro 2019 Nello specifico La versione da 16 pollici Tutto display Come in questa immagine Cioè questa immagine Praticamente è un concept Che comunque rispecchierà Molto probabilmente La realtà Perché questo dovrebbe essere Il nuovo display E il nuovo design Del MacBook Pro 2019 Ovviamente sarà Un prodotto di nicchia Un prodotto per pro Ovvero professionisti Lo dice lo stesso nome Costerà Maggiormente Dei modelli attuali Si vocifera Più di 3-4 mila dollari Quindi più o meno 3-4 mila euro Ottimo 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 E oggi sono uscite Delle informazioni Molto interessanti Le leggo insieme a voi Si parla Dei nuovi processori Intel Coffee Lake Refresh Di nona generazione In linea con l'attuale MacBook Pro Da 15 pollici 15 pollici Pardon Rilasciato nel mese Di maggio Secondo l'analista Del settore Inoltre Inoltre sarà configurabile Con un processore I9 Ad 8 core Veramente potente Con velocità di clock Da 2,4 gigahertz Con una frequenza Turbo Boost massima Di 5 gigahertz La gamma includerebbe Anche processori I7 a 6 core Tutti i chip Sono inoltre Da 45 watt Con un Intel UHD Graphics 630 integrata Ragazzi Qua si parla Veramente di potenza Si parla di prestazioni Io non vedo l'ora Di vedere questo Mac Perché magari L'anno prossimo Se YouTube Mi aiuta con i guadagni Ce lo prendiamo Chi lo sa Chi lo sa Ultima novità Ma non meno importante Parliamo di iPhone 11 Ecco la data di vendita In Italia Ora Io volevo parlare con voi ragazzi Perché Ci stiamo avvicinando Al prossimo evento Apple Il penultimo forse Di quest'anno O potenzialmente Anche l'ultimo Di quest'anno Solitamente a settembre Apple fa il botto Cioè questo evento Apple È quello che dà Più spettacolo Più clamore Più acclamare Informazione Non lo so come dirlo Cioè È l'evento che tutti aspettiamo Anche se non ci piace Esteticamente Eventualmente Il nuovo iPhone È sempre il nuovo iPhone Vogliamo vedere tutte le novità E quindi quest'anno Già alcune fonti Hanno spoilerato La presunta data Sia di presentazione Quindi dell'evento Sia di preordine Sia anche Di vendita ufficiale Anche forse in Italia Ora Iniziamo Dalla data dell'evento La data dell'evento Solitamente Si tiene Dopo il Labor Day Ovvero la festa Dei lavoratori americani Quest'anno dovrebbe cadere Più o meno Nella prima settimana Di settembre Quindi Il primo giorno utile In cui tenere un evento È il 10 di settembre Infatti Alcune fonti Molte fonti Tra l'altro Confermano che il 10 settembre Dovrebbe essere Il giorno in cui Ci sarà il nuovo Evento Apple Di iPhone 11 11 Max E iPhone Xe XR2 11 R Come diavolo vogliamo chiamarlo Il successore di iPhone XR Il 13 di settembre Dovrebbe partire il preordine In tutti gli Stati Uniti Ma anche in Europa E quindi anche in Italia Spagna Francia Germania Eccetera Per poi Essere disponibili In Apple Store Per il Day One O ricezione a casa Se abbiamo fatto il preordine Il 13 Giorno 20 di settembre Quindi Day One 20 settembre Evento Apple 10 settembre Queste sono le possibili date Ragazzi Io onestamente Ci credo Perché Diciamo che negli ultimi anni Non sbagliano mai i rumors E tra l'altro Sono le date più probabili Quindi io mi aspetto Il 10 settembre Un nuovo evento Di presentazione Di iPhone 11 E ovviamente Il 13 preordine 21 Day One Anche qui in Apple Store Vi ricordo tra l'altro Che se siete di Catania Provincia O se siete di qualsiasi Altro Apple Store Del mondo Potrete venire Il 20 settembre Qualora fosse Quel giorno Il Day One All'Apple Store di Catania Al centro commerciale Centro Sicilia Perché come ogni anno L'organizzo io Quindi staremo lì Tutta la notte Faremo dei giochi Regalerò dei gadget Eccetera eccetera Quindi ragazzi Se siete nelle vicinanze Nelle mie vicinanze Venite a Catania All'Apple Store di Catania Il 20 di settembre Ripeto sempre se Ci sarà il Day One Allora Andiamo a leggere i vostri commenti Mattia Marconi Ti è mai successo Che dopo svariati mesi Di utilizzo Delle Airpods Di prima generazione Il destro smettesse Di funzionare All'improvviso Pensi che nella seconda generazione Sia stato risolto Mattia no Non mi è mai successo Credo sia un problema hardware Delle tue cuffie Non ho mai avuto problemi Né nella prima Né nella seconda generazione La prima l'ho usata per anni Quindi Sembra proprio un problema hardware Allora Antoxxay Come faccio a pulire i file Inutili sull'iPhone Ho tanti gigabyte Di file cache Devi rimuovere fisicamente Le applicazioni Una cosa che consiglio spesso È ogni tot aggiornamenti Fatti su iPhone Di ripristinare completamente Il dispositivo Senza riportare il backup In modo tale da Alleggerire il sistema Cancellare eventuali errori Ma soprattutto svuotare anche Il vostro iPhone Dai file cache Che generano le app Sono file che praticamente Non servono fisicamente Alla funzionalità Dell'app o del telefono Ma che si accumulano In mezzo lì Venus Mirko Io non faccio per arrivare Allo zero Lo carico a minimo Al 79 Ma comunque Dopo quasi due anni Ancora 95% Penso è buono Un bacione Sì direi che è molto Molto buono Ancora come ho detto Nel video di oggi In media Ogni anno Dovrebbe perdere Dai 2 Ai 3 punti Percentuali Se in 2 anni Ne hai persi 5 Diciamo che sei Perfettamente In linea A te è già Capitato di far cadere Il tuo iPhone Semplice domanda Di rassicurazione Spero Allora Faccio corna Ma no Non mi è caduto Nel senso Non mi è mai caduto Dalle mani Ecco Martino Basile Ciao Mirko Ma è normale Che quando il mio iPhone Si surriscalda Lagga un sacco Sì è normale Perché il surriscaldamento Deriva sia dalla batteria Che si surriscalda Ma soprattutto Dal processore Il processore Praticamente Più è caldo Meno lavora bene Quindi più Fa laggare Il tuo iPhone Posso dirti che Questa conseguenza È anche dovuta Solitamente A una batteria usurata Quindi controlla anche tu Lo stato della tua batteria Tramite il video di oggi Che ho rilasciato Stamattina Alle ore 13 Per verificare Effettivamente Se anche questo Se la tua batteria Dovesse essere usurata Diciamo che le due cose Si vanno ad incastrare Perfettamente Purtroppo Purtroppo Allora Francesco Palmetere Mirko io ho un iPhone 8 nero 64 GB E la mia batteria Sta all'84% La cambierò quando finirò Di pagare il telefono Perché l'ho preso Dalla 3 E o lo cambio Al mio compleanno Che sarà quest'anno Il 29 agosto Ok Ok qua c'erano Tutti i commenti Paolo Galli Grazie per i tuoi video Grazie a te Paolo Per seguirmi L'uomo invisibile Mirko dopo i minuti Di recupero Eh non posso ragazzi Non posso Non posso Mirko striscia Tutti i prodotti Che ho preso in offerta Su Amazon Sono sempre risultati difettosi Evidentemente anche quello Maledetti Maledetti Giuro che lo cambio Ciao Mirko Ma per Apple Watch Non ci sono novità Ancora non si sa nulla Sulla serie 5 E si alza la chat Ovviamente Dove siamo Mettete like Alle live Sennò Steve Jobs Resuscita E vi blocca i vostri device Ha scritto Un Apple fan Tommaso Quattraro Ciao Secondo te 64 GB Su un iPhone XR nel mio caso Nel 2019 Sono pochi per uno Che vuole installarci Vari social Una decina di giochi Anche pesanti Fortnite Asphalt E altre app 64 GB Diciamo che Devi avere tante cose Per riempirli Anche lo stesso Fortnite Si peserà 2-3 GB Ma te ne rimangono 60 Dovresti installare Tipo Non so Una decina di app Così E' difficile Giocare a tutti Quei giochi Diciamo che per un uso Generico 64 GB Sono davvero Ottimi Allora Voglio la tua T-shirt Giuseppe Non si può Non si può No Non mi fa donare Luigi Puoi donare Sia Qui sotto in descrizione Come ho detto Da qui C'è il Nella descrizione C'è scritto Dona anche tu Con delle freccette Premi il link E da lì puoi fare Oppure c'è un tastino Qui Super chat Un tastino a forma Del dollaro Qui in chat E puoi donare Anche da lì se vuoi Donatello Ciao Mirko Volevo chiederti una cosa Ho acquistato un MacBook Air 2018 13 pollici Da 128 GB E tre giorni fa Volevo avere un consiglio da te Su come risparmiare spazio Su disco Beh Hai preso la versione Da 128 GB Quindi non c'è molto da dire Nel senso Non c'è una guida Per risparmiare spazio Ne hai poco Quindi E' chiaro che Non puoi mettere Tanta roba Già il sistema Prende qualche giga Quindi C'è Non c'è molto da dire In questo caso Mirko Il dilemma Della vita Tor O una VPN Dipende cosa devi farci Dipende che devi fare Modestino Melillo Scusa Mirko Ma Apple dice Che puoi caricarlo Quando vuoi Senza farlo Scaricare a zero Appena comprato Se tu Ascolti Le cose che ti dice La gente In Apple Store Diventi pazzo Diventi pazzo Apple dice Puoi caricarlo Quando vuoi Ma è chiaro che La batteria Ione di litio E' fatta in questo modo Cioè Chimicamente è questo Ragazzi oggi nel video Non ve l'ho spiegato Ma se volete ve lo spiego Adesso così Vi faccio più convinti Allora la batteria Agli ioni di litio E' formata da ioni di litio Il litio E' una molecola Che è fatta da atomi Giusto? Perfetto Questa molecola In pratica Per attrarre a sé La carica elettrica E quindi Mantenere la capacità di ricarica In pratica cosa fa? Si eccita Ovvero vibra Velocemente E accumula L'energia Quando noi scarichiamo Pesantemente La parte iniziale O la parte finale Di una batteria Quindi la stressiamo In quel modo Quella sezione Delle molecole Degli ioni Perdono questa capacità Di ricarica E quindi con il tempo Si caricheranno Sempre meno Fino ad usurarsi Ripeto Vi l'ho spiegato Anche in questo momento Quindi Modestino Melillo Fai come credi Che ti devo dire Dragon99 Io ho l'iPhone 7 Dal 2016 E funge ancora Anche se l'ho abbandonato Nella camera Perché ora uso Il Huawei P20 Ah sacrilegio Dragon Secondo me è meglio L'iPhone 7 Luca Galliera Ciao Mirko Sai quando Whatsapp Inizierà a funzionare In maniera indipendente Dal telefono Cosa intendi Indipendente dal telefono In senso app Per iPad e Mac O In un altro senso Mirko ma se ripristino Una volta al mese L'iPhone si rompe O faccio bene Beh una volta al mese Mi sembra esagerato Ma Non ha una vera utilità Ogni 2-3 mesi Magari si Comunque Non succede Assolutamente nulla Ok Ok Uno che si spamma Bannato Ciao spammer Dove siamo Dove siamo Dove siamo Dove siamo Tech Channel Mirko Ma Apple Card Nel caso arrivi in Italia Se venisse rubata O persa La potresti riavere Senza nessun problema O ci sarebbe qualche rischio Praticamente tu Se ti viene rubata La card Puoi Dall'applicazione Per iPhone Cambiare il codice Della carta E quindi quella carta Diventa inutilizzabile In automatico si disattiva E te ne mandano un altro Ovviamente Ma sul tuo iPhone Già si aggiorna Crei un nuovo codice E la carta è nuova Completamente nuova Bellissimo Allora Alessio Severini Mirko quando metto in carica Al 20-25 Poi deve uscire Sta tipo al 97-98 Stacco iPhone Perché deve uscire Succede qualcosa Non succede niente Perché la vera ricarica Dovrebbe essere fatta Tra il 20 e l'80 Quindi non superare Sotto il 20% E sopra l'80 E' chiaro che Avere un 20% in più di batteria Tra l'80 e il 100 Serve a tutti Ma diciamo che Se qualche volta Non lo staccate al 100% Non succede niente Anzi Allora Spero che non esca Prima dell'inizio Della scuola Dato che è il mio Primo giorno di scuola Superiore Così posso trascorrere La notte davanti All'Apple Store Cosa farai il 20 settembre Per festeggiare I 10 anni di Apple Zain Allora Se il 20 settembre Combacia con il Day One Al Day One Ragazzi farò una mega festa Lo giuro Una mega festa assurda Tutta la notte Insieme a tutte le persone Che verranno E quindi vi consiglio Di venire Allora Peggio che cada iPhone O che non mi paghino Una mensilità Non lo so Dipende da te Differenze contrastanti Tra Airpods 1 Che ho E 2 Da come la so La spia verde Di carica Inoltre se cadono le cuffie In seda La scatola Si graffiano Ma non dovrebbero rompersi Chi l'ha detto Sono comunque Oggetti di plastica In policarbonale Chiaro che si rompono Se cadono Non è che non devono rompersi Possono rompersi E come Se possono Le differenze Ho fatto una recensione Puoi andarle a vedere Su questo canale Salvatore XX Quindi mi consigli X o XR Anche qui Salvatore Ho fatto un video Su questo canale Dove spiego Quale dei due Preferisco E ho fatto anche Un video confronto Quindi Allora Giovanni K Cosa ne pensi Della smart battery Per iPhone XS Max Visto che mi è stata Sostituita tre volte Da Apple In meno di due mesi Mamma mia Brutta storia Penso che sia Troppo costosa E ricarichi Così poco Per il prezzo Che ha Non glielo lo comprerei Mai 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 Golden Frank Ciao Mirko Ma il telefono Della tua ragazza Come è andato a finire L'avete ritrovato Purtroppo no Ormai è andato perduto L'hanno rubato E fa un culo Ai ladri che l'hanno preso Scusate L'espressione Mirko a me è scattata la corrente Adesso è tornata Ciao Mirko Quanto pensi Che costerà iPhone XS Max 256 euro A novembre Il Black Friday In negozi Come media world Unieuro Beh questo Non possiamo saperlo Già Dovrebbero essere scontati Gli iPhone di quest'anno Perché Cioè l'iPhone dell'anno scorso Ovvero XS XS Max Perché a settembre Usciranno i nuovi modelli Quindi i negozi di elettronica Già lo sconteranno XS E sconteranno anche XS Max Perdona Quindi Al Black Friday Chi lo sa Chi lo sa che vedremo Allora Mirko Torre La VPN Sono per navigazione Ad esempio Pagamenti online Sì sì Non lo so Intendevo A te Cioè tu cosa ci devi fare Cioè nel senso Devi navigare Non lo so Privatamente Devi fare pagamenti online Più sicuri Cosa devi fare Cioè in base a quello Io ti consiglio iPhone 7 e 8 Usciranno di produzione Mi è arrivata una donazione Scusate un attimo Da Gabriele Napoli Che mi scrive Ciao Mirko Secondo te iPhone 11 Supporterà la pensile Avrà l'USB-C E nocce più piccola Ti chiedo una tua opinione A prescindere dai rumors Rumors sul watchOS 5 Come mai ancora nulla Allora Ti rispondo per il fatto Dell'USB-C Credo di no Ancora dovrebbe mantenere Il lightning E secondo me Per il fatto dell'Apple Pencil Credo che Alla fine Apple Ceda Secondo mio parere La serie 4 E la serie 4 E la serie 5 Intanto ti ringrazio Ovviamente Per la donazione Allora Dove siamo Dove siamo Dove siamo È normale che l'iPhone Sia un po' tiepido Non eccessivamente Avendo la batteria Ancora al 93% Il calore dello smartphone Non dipende Scusate Dalla batteria Ma ripeto Dalla CPU Dallo sforzo Che ha il processore Quindi non c'entra Assolutamente niente Calbenzano Batteria Residuo 81% iPhone 7 Ci riesco a fare Ancora la giornata piena Ottimo Però Rallenterà sempre di più Io te lo dico Sotto all'85 Comincia a rallentare E più tempo passa Più diventerà lento Poi premerai un'app Ci vorranno 10 minuti Per avviare Quell'applicazione Ma iPhone 6 Plus Fino a quando verrà aggiornato iOS 13 E l'ultimo aggiornamento Che avranno 6S 6S Plus Mirko io ho comprato Un iPhone XR 128 GB Da circa un mesetto E sono un maniaco Della pulizia Perché ci tengo tantissimo Consigli su come tenere L'iPhone pulito E' bello? Allora Tu hai iPhone XR Quindi è IP67 Se non erro 68 No 68 Un metro di profondità Per 30 minuti Bene Mettilo sotto l'acqua Insaponalo col sapone Come faccio io Con i miei iPhone E via Non succede niente L'acqua che rimane sotto Nelle casse E nel connettore La soffi via Con il tuo soffio Il tuo soffiare Via Fatto E sempre riguardo Le AirPods C'è qualcosa Per verificarle E testarle Solo in Apple Store Vogliamo lo sblocco Telepatico Scherzo Grazie dei video E quelli di iOS 13 Figurati Yuka Rossi Un piacere Ma anche se non si aggiorna più Il sistema operativo Può andare ancora avanti Per anni Il telefono L'importante è che Aggiornino le app Il problema è questo Che poi Le applicazioni Diventano dipendenti Dal sistema operativo Ad esempio Quando uscirà iOS 13 Apple obbligherà Tutti ad aggiornare Da iOS 13 Le applicazioni Quindi in automatico Si rimuoverà La compatibilità Con iOS 10 Ed iOS 11 Quindi se tu non aggiorni Ai sistemi operativi In automatico Le app non saranno Mai pienamente compatibili Mani di ricotta Come sta Oh proprio oggi Proprio oggi Mi è arrivata L'altra email di Vodafone Che non vi posso far vedere Perché ho tutti i miei dati Quelle che ogni tanto Metto su Instagram E mi chiedono ancora I soldi Io sto aspettando Un giorno mi chiamerà Il tizio e mi dirà Salve siamo dell'ufficio legale Di Vodafone Vi aspettavo Maledetti Vi aspettavo Dirò così Dirò così Come posso far Fare per far durare Di più la batteria Dell'iPhone Allora Cindy Gerini Vai su YouTube Sei su YouTube Quando finisce questa live Scrivi iOS 12 Come aumentare La durata batteria E alla fine scrivi Apple Zain Il nome di questo canale C'è una guida Di 40 minuti Con più di 100 consigli Per risparmiare Batteria Sul vostro iPhone ed iPad Nicolò Logaio Ciao Mirko Volevo chiederti Se fai sport O se ti fai Qualche squadra di calcio In particolare Non faccio più sport Giocavo a basket Anni fa Nella Virtus Catania Basket Dato che sono di Catania E Tifo Milan Milan La sedia Lo dice La sedia mi piaceva Per far contrasto Ma nel frattempo È rosso nera Che sono milanista Secondo me dovresti cambiare Le intro dei tuoi video Secondo me Marco Io faccio quello che voglio Se piace a me La metto Pagamenti online Più sicuri Penso che Tor Sia più sicuro Ma è una mia supposizione Dipende Dipende Ci sono VPN Che sono molto Molto sicuri Tra l'altro In queste settimane Dovrò recensirne Sponsorizzarne uno Quindi magari poi Ti farò sapere Qui sul canale Allora Fabrizio Bianco Dopo il nuovo MacBook Da 16 pollici Farò nel modello da 14 Avevo sentito rumors In tal senso Fabrizio Non ci sono Cioè O almeno Da quando lavoro io Da 10 anni Non ci sono mai stati rumors Di un MacBook Di qualsiasi tipo Da 14 pollici Quindi attualmente Ti posso assicurare Che non si sa Assolutamente nulla Chi ha scritto questa cosa Ha scritto una bufala Incredibile Allora Dovrei poter Comprare un MacBook Anche quelli vecchi Perché mi servirebbe Per la scuola E compralo Pgamer 05 Allora Luigi Meglio iPhone 7 O iPhone 8 Nel 2019 Beh perché prendere Un iPhone più vecchio Meglio iPhone 8 No Mi consigli il Mac Del 2018 Quello che uscirà A settembre Beh dipende Cosa devi farci Perché Quello che uscirà A settembre A ottobre Avrà un prezzo Veramente esagerato Mirko Le Airpods Come le lavi Purtroppo rimangono sporche Anche con Il Cotton fioc Non le lavo Le pulisco col cotton fioc Ma le pulisco Settimanalmente E non si crea Assolutamente Nessuno sporco Da me Poi Tech Channel Mirko Mio fratello Ha comprato Iphone 8 Normale Che con Un utilizzo Normale Si scalda Tantissimo Siamo in estate Quindi si Purtroppo I prodotti Tecnologici In estate Soffrono Il caldo Come Noi Mirko Non odiavi team Odio tutti Odio tutti Odio team Odio vodafone Odio Iliad Tutti Li odio tutti Operatori Tutti quanti Ho litigato con tutti Su questo canale youtube Vedete Vedrete che ho litigato Con tutti gli operatori Per un motivo Per un altro Fanno tutti schifo Non c'è un migliore Non c'è un migliore Fanno tutti schifo Ah quindi Quando non ci saranno più Gli aggiornamenti di sistema L'iPhone dopo un po' Di tempo Diventerà inutilizzabile Cioè chiamate sms Non c'entra Queste sono cose Che sono integrate su iPhone Stiamo parlando di app Di terze parti Ovvero quelle scaricabili Su App Store Mentre riguardo La pulizia del sistema Come ho detto Ripristinare Una volta Ogni 2-3 mesi Serve appunto Anche a questo A rimuovere I file inutili E quindi anche Gli eventuali errori Per pulire il sistema Grazie per aver risposto Le nuverevoli domande Trovandomi come al solito In vacanza Tra non molto in Sicilia Essendo probabilmente D'Aragusa Ci vedremo sicuramente All'Apple Store di Catania Con piacere Mattia Grazie mille Dopo la live La vado a vedere Vado a vedere il video Ottimo Cindy Non accetti le critiche Non è una critica Marco Forse non hai capito L'intro La faccio io Voi Mi guardate Ma non potete scegliere Quello che porto io E faccio io Cioè È come se tu stai guardando la tv Tu guardi la tv Cambi canale In ogni canale c'è una cosa Che ti piace O non ti piace Io faccio questo E deve piacere Principalmente a me Poi se piace anche a voi Fa piacere a me Ma deve piacere a me Se alla intro piace a me Da anni Io lascio quella intro Se non piace a te Non la guardare Che ti posso dire Non posso cambiare una intro Solo perché Non piace a te A me piace E la tengo Il lavoro è mio La faccio io L'editing lo faccio io Deve piacere a me Non capisco cosa c'entrino le critiche Le critiche se Ho sbagliato a dire una cosa in un video O se ho montato male un video Ma se È un intro che ho scelto io Deve piacere a me Non vi fate inalberare Sette minuti prima della fine della live Allora Una tua opinione Se Apple Utilizza Apple Pencil Per iPhone 11 Max Sei contento Oppure Come Steve Che non volevi mai utilizzare Un pennino su iPhone Io la trovo una cosa inutile Ale Cioè nel senso Perché Abbiamo già Come dice Steve Jobs Diceva Pardon Scusate 10 pennini nelle mani Cioè Le nostre falangi Le nostre dita Ragazzi Cioè A cosa ci serve un Apple Pencil Magari tu dici Sì più precisione Eccetera Ma Fondamentalmente Non è un iPad Non mi serve per disegnare Non voglio disegnare Con una penna In uno schermo così Cioè per quanto sia grande No No Ho sempre criticato Il Galaxy Note No No Vabbè Vabbè Che ne pensi Delle app Svuota cache Mi scrive Carlo Carpino Che Le applicazioni su App Store Non possono interagire Con i file di sistema Questo vuol dire che Anche se alcune app Dicono che ti cancella la cache In realtà ci sono molti file Che non possono cancellare Perché non possono interagire Appunto con dei file Specifici di sistema Quindi Non serve praticamente a nulla Un'app del genere Se non a far Il giorno dopo Riapparire tutta la cache Che hai cancellato il giorno prima Quindi Grazie per la tua disponibilità Sei molto simpatico E ti stimo moltissimo Grazie mille Un Apple fan Bellissima intro Mirko Non dare letta a nessuno Grazie Venus Dove siamo Dove siamo Ok Cosa ne pensi Dei siti Di buy sharing Come Sharazon Che vendono prodotti A prezzi stracciati Penso che sia Una cosa squallida Dover aspettare Per acquistare qualcosa Solo scontata Onestamente Non ho mai capito Questa procedura Non capisco neanche Chi si affida a questi siti Chiaramente fraudolenti Secondo me Secondo quello che Penso io Come il vecchio Come si chiamava Che cacchio di coso Di sito Si chiamava Come si chiamava Quello che girava Ah girada Girada Un'altra cavolata Assurda Dai ragazzi Allora Il mio iPhone XS Max Si riscalda Non molto Sotto la telecamera È normale Il processore Non era da un'altra parte Beh dipende Da che componente In quel momento È sforzato Comunque il processore È proprio qui Più o meno Dove c'è il logino Apple Più o meno Cioè la parte Centrale Della scheda logica Che si riscalda No Io ho detto Quello che penso E tu mi hai attaccato No Ti ho semplicemente Risposto che La intro è mia E decido io Non ti ho attaccato Attaccare è dirti Stupido Scemo Cretino Non ho detto niente Di questo genere Ho detto semplicemente Che la intro è mia E decido io Non è questione di Criticare o meno È questione che deve piacere a me Semplice Comunque sono di Ragusa Se vengo a Catania Spero di incontrarti Mi farebbe piacere Luigi A me fa piacere Che incontro le persone Che vedo qui Iscritte con Un semplice nome Mi farebbe Sempre piacere Quale pensi sia Il video migliore del tuo canale Perché secondo te Il numero di tuoi iscritti Non si alza significativamente Nonostante i tuoi contenuti Che porti Perché ormai ci sono Tante persone Che fanno tutto Io mi sono sempre dedicato Al blog Solo negli ultimi 4-5 anni Mi sono dedicato a YouTube Quindi mi merito questo Mi merito Di avere Una crescita molto lenta Però diciamo che Sta andando bene E Il video che mi piace di più Il video migliore del mio canale Non lo so Forse Una tra le tre recensioni Le ultime che ho fatto Ovvero quella tra XR XS Max Ed Apple Watch Sono le tre Cose I progetti Sui quali Sono i tre progetti Sui quali Mi sono dedicato Molto Cioè sono uscito Ho fatto dei video in giro Recensioni Così Davanti a un sacco di gente Ho convento Problemi Cioè C'è stato un dispendio Di energie E soldi Molto ampio Quindi questi sono I tre video principali Se dovessi scegliere Tra il primo Il secondo Il terzo Ti dico XS Max Perché nel video C'è anche la mia ragazza Quindi mi fa anche piacere Che ci sia lei Allora Ma il fatto che iPhone 8 Di mio fratello Si scalda L'ho trovato curioso Perché avendo XR Ho notato grande differenza Di temperatura Ci sono componenti diverse E lo spessore diverso Sia da iPhone XR A iPhone diversi Ecco Cioè Mirko Non hai risposto Riguardo la notch più piccola Su iPhone 11 Oh scusa Gabriele Non l'ho visto Non l'ho visto No su iPhone 11 Dovrebbe mantenersi ancora L'attuale notch Che l'anno prossimo Dovrebbe essere l'impiccioletta Per Pardona Ma lo sono Lo sono tolto dalla testa Tu hai il vizio Ogni volta Di farmi 100 domande In un unico In un'unica domanda Quindi me le scordo Le cose Allora Marco Ognuno nel proprio lavoro Far quel che vuole Mirko sei grandissimo Continua così Grazie mille Simone Ti smetto di seguire Cerco altri youtuber Ciao Marco Ciao Marco Ti posso dire Cioè Se tu ti secchi Perché a me piace la mia intro Non voglio cambiarla Io non ho che dirti Cioè Non ho parole Veramente Dove siamo Il Mac mi serve per la scuola Che ora vado in primo superiore Meglio ai Mac 2018 O 2019 Ovviamente Più nuovo è Meglio è Non attaccare Mirko Per la sedia Sono anni che lo seguo in gamma No tranquilli ragazzi Non mi metto neanche a discutere Ci sono Ripeto Dei moderatori E o li banno io manualmente O vengono bannati Infatti E' stato Già bannato Il canale E tu E il sito è tuo Decidi tu E a me piace Ma poi io non capisco Perché fare una polemica Su un intro Che dura 10 secondi Mamma mia Cioè Come se La gente vedesse I miei video Per la intro Cioè Boh Vabbè Vabbè Ragazzi Mancano pochi Secondi Facciamo un piccolo recap Come al solito vi ricordo Che potete seguirmi su Facebook Twitter Instagram E Telegram Su Instagram ci sono sia io Mirko Trattino Basso Zain Aggiungetemi ogni giorno ragazzi Parlo con voi Scambio opinioni Vi do consigli Tra l'altro vi do anche consigli Su cosa acquistare su Amazon Scontato Che ne so Cavetti Custodie Accessori per iPhone O addirittura prodotti Apple Stessi Ultima cosa Scaricate iApp Zain Sia per iPhone Che per iPad L'applicazione più votata positivamente Su App Store Per l'Apple News italiana Ed anche la più scaricata d'Italia Ragazzi Scaricatela E gratis E abilitate le notifiche Grazie a tutti quelli Che sono stati qui con me Grazie a quelli che hanno donato Oggi Ci vediamo domani No domani non ci vediamo Ragazzi con un nuovo video Domani mi prendo un giorno di vacanza E agosto Ci sta Torniamo L'8 di agosto Con un nuovo video Molto interessante Ovvero Come pulire Tutti gli errori Generati Su iPhone Ed iPad Da iOS Non vi ho detto niente Ragazzi lasciate un like Prima di uscire da questa live Ci vediamo Dopodomani con un nuovo video E ovviamente Martedì prossimo Con l'Apple Live Un saluto da Mirko Sempre qui Per AppleZain.net Ciao